Anche quest'anno il Comune di Pescara ha messo a disposizione dei cittadini dei contributi a sostegno delle famiglie. L'iniziativa Pescara Solidale 2023 prevede misure per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi e ricreativi che svolgono attività in favore di minori. Quest'anno diciamo che avremo sia 115 mila euro totali da dare per le famiglie di Pescara, salvo eventuali anche integrazioni che dovrebbero pervenire in questo caso dallo Stato, con il quale noi andiamo a dare un contributo di 475 euro a ogni famiglia, ogni famiglia che potrà poi utilizzare queste risorse per potenziamento, per esempio per portare i figli dai centri estivi oppure attività anche ludico, formative, sportive. Sarà possibile accedere al bando pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione Pescara Solidale 2023 attraverso lo speed a partire dal 3 luglio. Tutti gli avvisi dovranno pervenire entro le ore 13 del 17 luglio. Il Comune di Pescara ha predisposto anche un catalogo dei soggetti erogatori dei servizi. Noi andremo a dare aiutare soprattutto innanzitutto i ragazzi con disabilità, quindi i ragazzi di disabilità avranno non soltanto raddoppiato l'ammontare, ma avremo anche maggior punteggio. Poi i ragazzi, i figli dove entrambi i genitori per esempio lavorano, in questo caso avranno un punteggio maggiore rispetto a quelle famiglie dove lavora soltanto un genitore. Poi logicamente c'è anche il servizio l'ISEE che darà dei punteggi a seconda dell'ISEE. Pescara Solidale 2023 ha pensato anche alle famiglie ucraine. Saranno 200 quelle che potranno beneficiare di un contributo, un attantum di 300 euro, che sarà erogato attraverso la consegna di carte spesa prepagate. Le domande in questo caso dovranno essere inoltrate in formato cartaceo o a mezzo PEC. Sono 300 euro che andremo ad erogare a delle famiglie ucraine che hanno domicilio e residenza a Pescara. Anche qui un importo totale dell'investimento è circa 60 mila euro. Daremo una risposta a questi cittadini che sono ormai da oltre un anno qui a Pescara, dove con queste carte della spesa potranno anche in questo contesto un aiuto concreto che noi andiamo a derogare. Siamo contenti perché Pescara si è dimostrata anche come dice la stessa parola, Pescara Solidale, in quest'anno molto virtuosa anche nei confronti dei cittadini ucraine che sono stati accolti veramente a braccio aperto nella nostra città. Oggi noi abbiamo intercettato queste fondi del Ministero, con questi fondi andiamo a dare un aiuto concreto come abbiamo sempre fatto.